È colpa tua, ecco, il problema è proprio questo, purtroppo sì, e quindi c'è da fare un'inversione totale di marcia perché i cittadini non possono avere questo trasporto pubblico, meritano davvero di più. Come noto, tua sta per trasporto unico abruzzese e Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale, gioca sulle parole ma non è uno scherzo, poiché il consigliere pentastellato fa un ulteriore appello alla regione affinché vengano risolti i problemi che si protraggono, dice, nel tempo e che interessano sia gli autisti, costretti spesso ad aggressioni verbali e fisiche, sia gli utenti, costretti ad accedere al terminal bus delle aree di risulta tra buche e asfalto dissestato. Presente stamani al terminal bus, al sitem di protesta, una delegazione di dipendenti tua e il segretario del sindacato Orsa, Alex Orlandi, ma sentiamo Pettinari. È colpa tua? Io direi che questa è la gestione fallimentare del centro-destra che governa il trasporto pubblico regionale, infatti parliamo dei grandi disservizi all'utenza e al personale, le due corse appena istituite che collegano la stazione centrale all'aeroporto, udite udite, le due corse sono sprovviste e inadeguate per il trasporto del personale degli utenti disabili in carrozzina e questo è veramente vergoglioso. Per arrivare al terminal bus, terra di nessuno, stazione centrale, abbiamo delle voragini sul manto stradale completamente dissestato, pericolosissimo nelle ore serali, quando cala il buio, qui c'è una scarsa illuminazione, ricordiamolo, questo è stato a teatro anche di stupri e di violenze questo posto, importantissimo. Non solo manca la segnaletica orizzontale, c'è un accesso incontrollato di veicoli privati che rendono pericoloso questo posto. Andiamo avanti, c'è una carenza di informazioni, l'azienda punta tutto sull'online, ma immaginate l'utenza anziana che non sa andare su internet, non sa quando ci sono le corse soppresse o le deviazioni di cross. Inoltre, prosegue a pettinare, in molte fermate sono sprovviste di seduto pensiline, un disagio che si acutizza col freddo intenso, con il caldo torrido. Spesso si fermano gli autobus lasciando utenti, pendolari, lavoratori e studenti a terra, per concludere sulla biglietteria della stazione, che la domenica non è attiva, non funziona. I dipendenti, il lavoratore quotidianamente deve affrontare situazioni abbastanza emergenziali, sia per la scarsa manutenzione del fondo stradale, come è possibile vedere qui all'interno del piazzale, scarsa manutenzione dei mezzi, traffico selvaggio, soste selvagge. Altro fardello che incombe sul lavoratore e sul cittadino stesso è quello delle innumerevoli corse a vuoto che si effettuano con gli autobus. Il che sfocia, prosegue Alex Orlandi, in una situazione di inquinamento in centro città, inoltre evidenzia la carenza di personale. Gli autisti, dice, fanno il loro meglio in condizioni di grande precarietà.